A Belluno la visita di Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della regione con la coalizione di centrosinistra composta dalla lista Il Veneto che vogliamo e da diversi soggetti civici e partitici. Nell'occasione la presentazione dei candidati consiglieri in lista PD per il bellunese, ovvero Edi Fontana, Maria Teresa De Bortoli, Adis Zatta, Cristina De Donà e Fabio Candeago, per tre quinti una lista di amministratori. Le priorità di Lorenzoni ricalcano alcuni punti cardinali dell'agenda 2030 dell'ONU e guardano con interesse alle risorse europee. Quindi sensibilità alle tematiche ambientali, investimenti sul territorio in infrastrutture e in tutela del patrimonio idrogeologico, conservazione del territorio da parte di chi se ne prende cura, e penso agli agricoltori come custodi del territorio, ma innovazione come chiave per il rilancio economico della nostra regione. Altro tema focale è quello della sanità. La sanità è stata pensata come sviluppo dei poli per gli acuti a scapito della sanità del territorio, uno sviluppo della sanità privata a scapito della sanità pubblica. Ci siamo resi conto in maniera forte negli ultimi mesi con l'emergenza della pandemia che invece è la sanità pubblica quella che fa diga di fronte ai problemi grossi. Quindi dobbiamo tutelare la sanità pubblica e dobbiamo soprattutto tutelare la sanità del territorio. E per quanto riguarda l'autonomia, la posizione è questa. Autonomia come riforma in senso di efficienza dello Stato, non come uno spostamento di centralismi, ma come una riorganizzazione del dialogo tra i diversi livelli amministrativi, a partire dai comuni e quindi dalle municipalità che sono le presenze vicine ai cittadini. E quindi investimenti concordati con i comuni e processi decisionali che tengano conto delle istanze reali del territorio.